Cornier, sono iniziati gli incontri al Corsac, con la presentazione del libro Galisia 1944-2014 Alpine Partisane, il volume, realizzato dal Centro Ricerche Studi Alto Canavese, Corsac, contiene la traduzione delle memorie di guerra di Alfred Soton, l'unico soldato inglese, che sopravvisse alla tragedia del novembre 1944, dove morirono in 41 fra soldati inglesi e partigiani italiani, curata dagli studenti della quarta B del liceo scientifico Aldomoro di Rivarolo. Guidati dalla loro docente d'inglese Maria Elena Coa, riportati nel libro i risultati degli studi più recenti sui drammatici eventi del novembre 1944, quando un gruppo di ex prigionieri inglesi fuggiti dal campo di lavoro di Spineto di Castellamonte, accompagnati da partigiani canavesani, perse la vita nella traversata del Colle Galisia, a un passo dalla libertà.